La soluzione Geo4Business di EbiWorld è stata sviluppata da EbiWorld per supportare i gestori delle reti idriche nell'affrontare le sfide che stanno affrontando quotidianamente, che sono diciamo sotto i riflettori e che ci dà l'opportunità di ridiscutere e di approfondire il Festival dell'acqua. L'esigenza che hanno i gestori è quella di poter acquisire una maggiore consapevolezza sulle proprie reti, di poter documentare in modo molto dettagliato le informazioni che riguardano le reti, sia quelle dell'acqua potabile che delle acque nere, per poter poi mettere in atto delle decisioni che siano veramente supportate e basate su dati tecnici della rete. Geo4Business va esattamente in questa direzione. Lo scopo di Geo4Business è quello di mettere a disposizione degli utenti una piattaforma integrata di consultazione della rete, ma anche di analisi della rete, attraverso la quale quei dati che in genere vivono in silos separati all'interno dell'azienda acquisiscono un nuovo valore attraverso la condivisione. Quindi attraverso la soluzione è possibile comprendere con maggior precisione, più in profondità, i fenomeni che interessano la rete, confrontarli con fenomeni esogeni, confrontarsi con i temi che riguardano anche gli aspetti relativi al cambiamento climatico per prendere delle decisioni più impattanti e più efficaci rispetto alla gestione della rete.